Ciao amici di Tariatro Games, buongiorno e buon inizio di settimana. Cosa ne pensate della massima secondo cui l'attesa del piacere è essa stessa il piacere? Io spero che siete d'accordo perché abbiamo un aggiornamento ufficiale da parte di Konami su quando si potrà iniziare a giocare di Football 2024 offline. Sì, perché se adesso entrate nel gioco scoprirete che vi trovate nella stessa situazione di tutto quello che è successo ogni giovedì di Football 2023. Cioè i server sono chiusi, iniziate ad aprire il gioco e giocherete con i Football 2023 ancora. E fino a quando sarà, ce lo dice Konami in questo aggiornamento ufficiale che è comparso per il momento solo sull'account Twitter, anzi scusate, X giapponese, non europeo. Però è l'account ufficiale, quindi sono queste le informazioni ufficiali. Avviso di inizio, manutenzione su larga scala. Iniziato un'importante manutenzione per l'aggiornamento ai Football 2024. L'inizio della distribuzione degli aggiornamenti è previsto nelle seguenti dati. Versione console domestica, a cui aggiungiamo anche il PC, 6 settembre 2023, ovvero mercoledì. Considerando che è una data giapponese, potrebbe, sottolineo, potrebbe arrivare anche martedì notte, perché il Giappone sta avanti di 7-8 ore. Quindi, in teoria, potrebbe arrivare anche la mezzanotte di martedì, potrebbe, potrebbe anche essere successivamente. La versione mobile arriva un giorno prima, arriva il 5, che è domani, martedì. Però, la cosa particolare, il tweet, dice anche questo. La versione per console on videogame, ripeto, io ci aggiungo anche quella PC, sarà disponibile per partite di prova dopo l'aggiornamento previsto per il 9-6. Godity, il gameplay è evoluto prima che il servizio inizi il 9-7, ovvero giovedì. Quindi, alla conclusione di tutto, dal 5 viene distribuito l'aggiornamento su mobile, però nell'aggiornamento ufficiale non si parla di una possibile prova per l'offline. Però, ditemi se mi sbaglio, ragazzi, mi sembra che anche sul mobile si possa giocare offline, però può essere che mi sbaglio, sapete che non gioco su mobile. E poi, da mercoledì, dal 6 settembre, potremo provare il gioco offline, prima che torni online, giovedì. Quindi, per farla breve, martedì arriva l'aggiornamento su mobile, domani. E, non lo so, qui non viene specificato, ma vedremo domani cosa si può fare sul mobile, anche per dare un'occhiata ai menu, eccetera, eccetera. Farò il video da mobile. Mercoledì, il gioco, l'aggiornamento arriva su PC e console. Qui si parla di un console, ma io dico che arriva anche su PC, perché Konami PC se lo dimentica spesso. E poi, giovedì, riparte tutto. Quanto meno, stavolta, Konami ha parlato, ci ha spiegato la situazione e così dovrebbe fare ogni volta. Quindi, ragazzi, ancora un po' di ore di attesa. Se l'attesa del piacere, se stesse il piacere, questi giorni ci vorremmo tanto divertire. Io stamattina, onestamente, avrei preferito già provarlo il gioco, non so voi. Però, almeno, la situazione è ben delineata e chiara. Staremo un po' a vedere quello che accadrà nei prossimi giorni, anche se qui sembra piuttosto delineata la situazione. Domani vedremo se almeno possiamo vedere i menu del gioco da mobile. E poi, mercoledì, finalmente, giocheremo e conosceremo i football 2024 offline e giovedì online. Quanto meno, la situazione è chiara. Oggi, se volete, potete ancora giocare offline ai football 2023, sia oggi che domani. D'accordo, ragazzi, noi ci vediamo oggi per Murillo per parlare di UFL. Invece, perché ci sono un pochino di novità, visto che tanto di football 2024 non c'è altro da dire, io vi auguro una buona giornata e fatemi sapere cosa ne pensate di questo aggiornamento ufficiale arrivato stamattina da Konami dall'account ufficiale nipponico su X. O, per meglio dire, o almeno a me piace dire ancora Twitter. Ragazzi, buona giornata e attendi i vostri commenti. Ciao!